L'annuncio arriva dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite. Negli ultimi quattro naufragi del Mediterraneo hanno perso la vita almeno 700 persone. I particolari dell'ultima tragedia fanno paura. 450 migranti sono morti perché gli scafisti li hanno ammassati su un barcone che non era in grado di navigare perché il motore era fuori uso. Gli uomini della polizia di Ragusa ci hanno messo ore ed ore per capire cosa era successo, perché tra i corpi recuperati c'era quello di una donna praticamente decapitata. E così hanno iniziato ad ascoltare i migranti sbarcati ieri a Pozzallo. Alcuni erano sconvolti, hanno chiesto proprio a loro di raccontare e loro hanno parlato, descritto. Erano partiti la notte tra mercoledì e giovedì scorsi dalle spiagge di Sabrata in Libia. Erano moltissimi, più di mille e per tutti non c'era posto su un unico barcone. Così gli scafisti hanno messo in mare una seconda barca, quella con il motore rotto. Usando una cima l'hanno agganciata al primo peschereccio. Dopo otto ore di navigazione però il mezzo trainato, in piena notte, è iniziato ad imbarcare acqua. Nel buio, come dei disperati, i migranti hanno provato a svuotare la chiglia con le mani. Nel verbale i poliziotti di Ragusa scrivono che è stato un lento affondare. Dopo un'ora e mezza infatti il natante era sotto il pelo dell'acqua. A quel punto lo scafista del primo barcone ha ordinato di tagliare la cima che serviva per trainare. La fune, come una fionda, ha decapitato una donna. Poi il barcone è andato a fondo in pochi minuti. Nella stiva c'erano 300 persone, quelle che come sempre possono pagare di meno. Sono state inghiottite dal mare, tutte morte. Tra loro soprattutto donne e almeno 40 bambini. Chi era sul ponte invece si è buttato in mare. Erano in 200. Gli uomini della marina ne hanno ripescati solo 79. Sono stati loro ad indicare quest'uomo come lo scafista, un giovane senegalese, arrestato. I sopravvissuti hanno raccontato che quando la barca è andata a picco non si è neppure voltato a guardare. 450 vittime. Questi invece sono i 45 corpi riportati a terra a Reggio Calabria dalla nave Vega della Marina e sono le vittime di un altro naufragio, quello del barcone che si è capovolto mercoledì mattina. Uno degli investigatori di Ragusa ci dice Ormai sanno che i mezzi di salvataggio intervengono già a 15 miglia dalle coste libiche ed è per questo che ora mettono in mare qualsiasi mezzo sapendo anche che dopo poco affonderà senza alcuno scrupolo. Ormai sanno che i mezzi di salvataggio Grazie a tutti.